Abbiamo conosciuto Venezia Home perché ci lavora vicino Federica e passandoci davanti mi ha proposto andare lì per vedere i mobili. Abbiamo trovato Lido e ci ha fatto il progetto per la casa, abbiamo visto con lui i disegni. Avevamo noi un'idea di partenza, poi lui l'ha sviluppata, l'ha messa giù bene e dire che ci siamo trovati bene. Anche con i montaggi ci siamo trovati bene, hanno montato tutto in poco tempo, sono stati veloci, bravi, tenuto tutto pulito. Un grazie allo staff di Venezia Home, grazie a Lido e ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!